Presentato in Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate, il progetto finanziato dalla Regione Campania grazie ai fondi europei FEAMP 2014-2020 Re Mare, quattro aree marine protette e cinque associazioni di categoria della pesca insieme per un obiettivo comune, rimuovere tonnellate di rifiuti dal mare della Campania. Le quattro aree marine protette della Regione insieme a cinque associazioni di categoria della pesca andranno a formare la grande rete che vuole ripulire il mare della Regione dai rifiuti e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla risoluzione di un problema ormai non più rinviabile. Sappiamo che per anni, nell'immaginario collettivo, erano i pescatori quelli che producevano i rifiuti e inquinavano il mare. Purtroppo le vicende degli ultimi decenni ci dicono che c'è altro che determina questo inquinamento marino e che i pescatori sono le prime vittime. No, in termini di riduzione della produzione e tutto il resto proprio dell'inquinamento da plastica. Per cui ci è sembrato necessario fare un'azione che al di là della raccolta dei rifiuti a mare, io credo abbia due valori fondamentali. Uno rimette a centro il pescatore, cosa che è molto difficile all'interno di questo programma comunitario FEAMP, perché le misure sono tarate su fabbisogni che non sono spesso quelli della nostra marineria. Ma il valore più grande, secondo me, è stato riuscire a mettersi insieme. L'utilizzo delle imbarcazioni da pesca per raccogliere rifiuti in mare non è una novità assoluta. Già da qualche tempo la pratica si sta diffondendo grazie anche al decreto salvamare del ministro dell'ambiente Sergio Costa. Ma la sinergia tra tanti soggetti, quali le aree marine campane e tutte le associazioni di pescatori, rappresenta un'assoluta novità nel panorama nazionale. Noi siamo il primo parco italiano plastic free e lo diciamo con grande orgoglio. Siamo contenti che ci sia stata anche una norma con il ministro Costa, un ministro dell'ambiente che ha dimostrato in pochi mesi di essere non solo competente, ma di essere anche legato ai territori e soprattutto ai territori delle aree protette. Abbiamo avuto la modifica di quella norma che i pescatori ci avevano chiesto, quella norma di poter oggi raccogliere la plastica dal nostro mare e poterla anche consegnare e poterla ovviamente smaltirla in modo corretto e legale. Questo fino a poco tempo fa non era consentito e devo dire una delle prime iniziative è stata fatta proprio nel nostro parco per chiedere con forza che ci fosse una modifica della norma. Ecco perché siamo contenti e orgogliosi di partecipare qui, che ti possa fare qui nel territorio nostro, a Santa Maria di Castellabate, una iniziativa che guarda alle aree marine protette, ma guarda alle aree marine protette soprattutto pensando al futuro. In campo, meglio in mare, ci saranno centinaia di pescherecci che oltre alle quotidiane attività di pesca recupereranno rifiuti su di un'area di circa 50.000 ettari marini, dal Cilento alla penisola sorrentina, dalla costiera amalfitana, sino ad Ischia e Procida. Una grande operazione di pulizia ma non solo. L'area marina protetta di Punta Campanella è capofila del progetto. Siamo riusciti a coinvolgere tutte le associazioni di categoria, quindi ci sono un numero di barche superiori a 400 che per i prossimi due mesi, oltre che lavorare per fare il loro lavoro, raccoglieranno tutte le volte che gli capiterà delle immondizie, non saranno costretti come succedeva prima di non poterli portare a terra, ma potranno raccoglierlo, differenziarlo e lo smaltiremo. Saranno centinaia i pescherecci coinvolti, le imbarcazioni saranno attrezzate con bag per raccogliere i rifiuti pescati. Durante le quotidiane attività di pesca sarà fornito inoltre anche un kit per lo smaltimento. Una volta nel porto, i rifiuti saranno consegnati alle società di smaltimento dei rispettivi comuni interessati.